la prima volta seconda cosa la seconda volta che lo fai sì che forte secondo me se lo faccio ancora un paio di volte mi viene un tempo decente perché l'ha oggetto di tutta incredibilità dai ne provo a fare una poi vi gioco poi faccio un game vado in bagno intanto sono comendo che si possa fare meglio my kind are legion quickly prepare for battle yes i advance 30 secondi in stupato Sto pensando a che oggetti fare Perché sono convinto che ci sia qualcosa di meglio Della bomb Ma io la bomb l'ho fatta così Alla fine Io la bomb l'ho fatta Dopo la Dopo la tier 3 Io la bomb l'ho fatta quando Mancavano 100 Quando mancava 100 di vita all'antico Ma io la bomb l'ho fatta prima C'è che altro Con la ulti Io però preferisco più i ragnetti Guarda che non ti puoi prendere i ragnetti Allora le webs Ma le webs sono useless Sono useless Sì che sono useless Invece Quindi sta Do replay Non ce l'hai disponibile E allora non lo avrai mai Mi dispiace Fateli la pietra della rovina Perché scelgo draw E parla brood Cos'è sto Cambio di denti Di me Di me Di se hai fatto l'accetta No Male Non è useless Non è vero Perché hai più 25 danno Contro i creep Visto che tu Ma tu lasci pushare i tuoi creep Intanto Vai avanti Ti fai i ragnetti E quindi hai più danno E li fai prima E puoi andare ad attaccare la torre Dove sto andando con la sprecazione Ma tanto oro ne hai Fosse l'oro Tu paghi E la fine Per il video Cosa sta facendo Sto aggiornando Il vero problema E quando arrivi alla tier 3 Perdi un sacco di tempo Il problema So che devi fare Tu e Rax Lo shrine E quell'artificio di merda No in realtà devi avere il culo con i creep Se i creep sono quelli buoni Te lo targettano loro Tipo A me è capitato che targettassero la torre per un po' Cioè una wave di creep mi ha targettato la torre A me è capitato di Quella cosa di avere tipo Sette ranged Che hanno tipo arato Lo shrine E il cosetto piccolo Dove è salvarti i raggi Perché il condivinatore Sembra Aspettiamo Cosa da vero Cosa da vero Ma quel video È un video bellissimo Perché io ho premuto R ma non mi ha ultato questo errore di merda Eh Perché io ho premuto R ma non mi ha ultato questo errore del cazzo Perché è una tastiera brutta Ridillo più lentamente Perché hai una brutta tastiera Ah ok adesso sentite Perché c'è E perché ci sono Digital Chaos Non sto capendo più niente Certo torre di merda Targettate me cazzo Voi Iti sono Fai No Oh, oh. Ho un problema Sto attaccando l'antico senza ragni Devi fare attenzione A e mezza al minuto Di tornare indietro Eliminare la wave E di tornare a fare Quello che stai facendo Perché se no non ti arrivano creepy E' un casino E appunto Sì ovvio che arrivano perché Ovvio che vincono Ma che palle Vuoi sapere quanto ho fatto? Perché sono Guarda 704 Shit Si può fare Si può fare Con tranquillità Grazie a tutti